Non sono stati me in linea. Bella bella che ha ucciso questi. Pronta per questo viaggio, Nestero? Certo. Nervosa? Nervosa? No. Membia. Nascosta nella Membia. Sono entrato in possesso di una mappa. Unica testimonianza di un'isola non segnata sulle carte. Un posto che si pensava esistesse solo nel mito. Muro! C'è un muro di prua! Sto parlando di un mondo primitivo dove l'uomo non ho mai messo pieno. I rovini di una civiltà non sconosciuta. Una cosa più spettacolare che abbiate mai visti che girano il mio film. È deserto. Certo che è deserto. Usa gli occhi presto. È un posto in rovina. Da. Un po'. Un po' di più. Eita. Un po' di più. Certo che è effettuato questo. Un po' di più! dietro il muro che hai visto dimmelo avete armi, avete cibo e munizioni domani a quest'ora leviamo l'ancora no Grazie a tutti.